Ciao a tutti ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Juventus Genova 3-1 A quanto pare abbiamo ripreso la strategia di vincere le partite Abbiamo distrutto il Genova oggi a casa nostra Lo abbiamo distrutto con tre pappine E abbiamo fatto una partita a quanto pare della Madonna Una partita senza errori E abbiamo distrutto ovviamente il Genova Ovviamente nel primo tempo ovviamente Kulusevski ha segnato il gol Del 1-0 girandosi e battendo per in per segnare il gol del 1-0 Poi Ronaldo non ho capito perché non segna davanti a una porta Porta vuota non segna Ancora non capisco perché non lo fa Però ha fatto un assist per Morata Che è un gioco da ragazzi Segna il 2-0 E lì veramente era soltanto only Juve Primo tempo Only Juve Poi nel secondo tempo Scamacca per il Genova Segna il 2-1 Che lì veramente era preoccupante Perché il Genova ha fatto il gol del 2-1 Poteva ovviamente pareggiare Poteva pareggiare E fare il 2-2 Lì veramente si metteva male Poi Winston McKennie è entrato E ci ha pezzato lui A fare il 3-1 Che ha chiuso definitivamente la partita E ci ha fatto vincere questa partita Molto importante da vincere L'altra prossima partita ovviamente è contro l'Atalanta In casa loro In casa loro In casa dell'Atalanta Bergamo Quella partita ovviamente è da vincere Perché può contare sul post Champions L'Atalanta sta vincendo 2-0 A Firenze Quindi ovviamente sarà quarta o terza Non lo so Non ho visto la classifica Ma ovviamente sarà da vincere Contro l'Atalanta Una partita di ferro ovviamente Perché l'Atalanta quando vuole Può farci male E lo ha fatto in passato in Coppa Italia Lo ha fatto in precedente partite Però ovviamente c'è da vincere contro l'Atalanta Basta che giochiamo come nel primo tempo Tutta la partita contro l'Atalanta E possiamo farcela Senza problemi Attinger a Bergamo Comunque ciao Forse voi sempre Scrivete nei commenti Secondo voi il problema è di Pirlo Che non vincevamo Oppure la squadra che era stanca Oppure c'era un problema Io non lo so Però secondo me Ce la possiamo fare Adesso siamo tornati in pista Siamo tornati in pista E possiamo farcela Basta lavorare solito E cercare di vincere le partite E rimanere concentrati Ciao Forse voi sempre Questa partita sarà abbastanza bella Scrivete nei commenti Secondo voi Riusciremo a finire il campionato Oppure a finire nelle top 4 Io penso di sì Ciao Forse voi sempre